Il tridente d'attacco del Città di Brindisi si spezza e lascia. Qualche incertezza, ma non solo, in vista del match di domenica contro il Pomigliano, pesa anche il posto vuoto in mezzo al campo occupato sino ad ora da Francesco Mariano. A mettere le ganasce ai piedi dei due giocatori bianco-azzurri è il turno di stop deciso dal giudice sportivo Vada Secchi, mister Ciullo, nella gara casalinga di domenica prevista dal calendario contro i Campani, dovrà ritirare fuori dal campo due pedine importanti. Si straccia così il tre punte al bano tedesco Pellecchia che proprio nelle ultime gare è stato un motivo d'orgoglio Brindisi, mentre Mariano dal canto suo lascia un buco al centro che alleggerisce il 4-3-3 del mister. Ma la fiducia è tanta negli spogliatoi e la voglia di fare bene c'è. I nove punti recuperati sino ad adesso sono ampia dimostrazione di come si gioca bene in casa Brindisi. Certo lo schema di gioco potrebbe ora risentire delle assenze, ma il team adriatico ha altri motori funzionanti che a onor del vero senza pochi clamori hanno costruito decisive e importanti vittorie. Dal fronte societario non sembrano esserci notizie rilevanti, l'assemblea dei soci prevista in questi giorni non sembrerebbe ancora essere stata convocata e nell'attesa di nuove indicazioni sulla questione delle quote, la società non resta ferma e indice in vista della prossima gara la giornata Pro Brindisi con l'obiettivo di rimpinguare le casse rendendo nulli abbonamenti e ingressi di favore.